SIGLA Mi spieghi quel coso come diavolo c'è finito lì dentro? Beh... Uno non può distrarsi un momento che rimane fregato per tutta la vita. Sono al quarto mese. Ragazzi, smagliatelo. Se le tolga subito. Il licenziamento è effetto immediato, capito? Licenziamento. E ti libererai di me tanto verso l'interno. Io ho un piano. Mi servono delle alleate e conto a tutto. NEPOLEONE di Tron Legacy e Oblivion. Parlando della sceneggiatura, per ora si sa solo che il film sarà incentrato su un player che dopo una serie di eventi diventerà un pilota. Interessante? Vi aggiornerò presto con ulteriori sviluppi. Iscrivetevi al canale quindi se volete rimanere aggiornati e scaricate la nostra app sia con iPhone che Android. Ciao!